E' la scuola italiana più ambita dai ragazzi, è la scuola dove nascono veri talenti, è la scuola più seguita, sto parlando dell'Accademia dei talenti dei ragazzi di amici. Il passato non potrà tornare mai mai, forse è meglio perché no, tu che ne sai, non hai mai più di me, ma dovrai cambiare idea, la vita è come la marea. Uno su mille ce la fai, tu ce l'hai fatta, Federico vincitore dell'edizione passata di Amici di Maria dei Frippi, bella soddisfazione. E' una grande soddisfazione sì, beh uno su mille... Anche un po' di più, eravate in tanti ai provinci. I provinci sì, erano sui 3000 e passa. A che cosa è arrivato dopo il momento della vittoria? Ma sostanzialmente tanti impegni, sono arrivati tanti impegni, le soddisfazioni non sono mancate, mi sono tolto tante belle spine sotto il fianco. E' una magnifica esperienza, amici, mi ha dato tutto, mi ha dato questo, il calore del pubblico, ora tocca a me però. E' un po' di più grande soddisfazione è stato il teatro con il musical Un Passo dal Sogno di Costanzo e Enrico Vaime. Il teatro invece gli dà proprio il contatto con il pubblico, ogni sera è diverso, sono stati cinque mesi intensi e pieni pieni di tante soddisfazioni. Tutti si rive! Ma che disperazione, a scelta una disperazione, era un gioco. Il personaggio di... Chi è meglio di amici di Marietta e Flippi? Ma è la parità! Chi è meglio di amici di Marietta e Flippi? Grazie a tutti.